ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video plan with me settimana dal 28 al 3 di giugno e in questa settimana decorazione sempre semplice voglio utilizzare come sempre tutti gli sticker che ho a disposizione washi tape sticker che ho fatto io quindi ne ho fatti un sacco mi sono resa conto che ne avevo fatti un sacco quindi li devo utilizzare e niente via alla decorazione un sacco mi piace Grazie a tutti. 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 Allora, qua ho messo, come avete visto, il mio sticker che avevo fatto. Come sempre il video degli sticker l'ho trovato in alto a destra nel pallino. E questo qua è un washi tape, proprio fatto così ci sono i lampioni e i gatti. L'ho ritagliato, non lo volevo usare come washi tape ma proprio come sticker e ho fatto questa composizione. Da quest'altra parte, allora, sempre i miei sticker fatti con la pasta stencil light e poi con i glitter, i brilli. Però, devo dire che un po' li perdono e quindi devo trovare una soluzione, penso che gli metterò sopra un pezzettino di scotch per tenerli lì per non avere il Midori totalmente ricoperto di glitter. Poi ho messo questo washi tape che ho trovato appunto su Aliexpress e queste due fashion girl che ho stampato da Pinterest. E appunto stavano bene insieme, sono dello stesso artista probabilmente e ho voluto fare una pagina un po' floreare rock, visto che queste qua sono un po' tanto rock. Poi, da questa parte primavera, quindi sempre il mio stickerino, washi di Aliexpress e anche questo qua è il washi di Aliexpress con questa donnina. Ed è proprio fatta così con la nuvoletta e la macchina fotografica faceva parte dello stesso disegno. Anche questo qua ovviamente l'ho ritagliato per trasformarlo come sticker. Qua andrà la copertina di giugno, che farò. Da questa parte ancora ho attaccato due sticker con i gatti, quindi sono della stessa collezione, sempre di Aliexpress. Poi, anche qua ho ritagliato il washi come se fossero degli sticker. Avevo questo washi con le piante grasse, questi vasi di piante grasse. Mi è piaciuto un po' mettere questo gattino che era su uno sfondo liscio tra le piante grasse. Da questa parte ho voluto riprendere il disegno che c'era sullo sticker e quindi ho aggiunto due altri sticker con questi motivi frorreali watercolour. Querellati e sopra gli ho messo questa lanterna che è sempre un washi che appunto si abbinava con i colori dello sticker. E per ultimo questa qua, sempre i washi delle lanterne, c'era anche questo qua tutto colorato che appunto era una lanterna appoggiata sul pavimento. Si abbinava con quest'altra fashion girl che è sempre un washi e poi il suo washi floreale che è per incorniciare il tutto. Ho terminato anche questo video plan with me, tutti gli altri video plan with me li trovate in alto a destra nel pallino. E quindi prossimamente come avete visto ho lasciato la pagina di giugno perché la faremo insieme. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, ci saranno delle novità, il video di mercoledì sarà una novità. Se non avete visto i commenti dell'ultimo video di venerdì di Pandora, quindi troverete una novità sul canale. E niente, ciao a tutti, al prossimo video!